Come una finale stasera in Coppa Italia, a Torino in campo Juventus e Inter arbitro Mariani e domani a Bergamo Atalanta-Napoli fischierà la penna. La Juve partirà dal 2-1 di San Siro, l'Atalanta dallo 0-0 del Maradona. Pirlo ha cambiato il modo di giocare della propria squadra dopo la sconfitta di Milano in campionato. L'Inter dovrà essere aggressiva per ribaltare il risultato dell'andata. Stavolta Conte avrà Hakimi e Lukaku in mezzo Eriksen. La Juve, che vuol confermare i recenti progressi, schiererà Buffon, Quadrado, De Litt e Bernardeschi. Anche la partita di Bergamo avrà un peso decisivo per i nerazzurri e in gioco il destino di Gattuso, il tecnico napoletano senza Coulibaly in difesa. Passando ad altro, alla Roma stanno per ritornare Zaniolo e Del Sciaraui. La pentola del calcio, insomma, bolle sempre.